Eh lo so, non ce la fate più, ma cercate di resistere perché adesso il 17 aprile inizia un speciale festival del cinema, sì l'undicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico. Perché è speciale? Perché prima di tutto lo potete seguire da casa con i vostri cellulari, poi potete votare voi il film migliore e terzo perché è composto da una giuria di ragazzi veramente speciali. Ricordatevi, dal 17 aprile è un festival straordinario con film da tutto il mondo e poi votate il film migliore, mi raccomando, vi aspetto dove potete seguirlo su www.teatropatologico.com Va bene? Fatelo girare a tutti, ognuno può votare, vi aspetto, dai dai resistete, non manca molto, dai vi aspetto, il 17 aprile, ciao!